100.000 euro per fronteggiare gli ingenti danni causati dall'alluvione che all'alba del 10 ottobre scorso mise in ginocchio la zona di Caldà. Come si ricorderà, lo straripamento del torrente Mela, ingrossato da una forte pioggia di inizio autunno, provocò una disastrosa ondata di fango che invase le abitazioni del piano terra, molte delle quali residenze estive, e trascinò letteralmente in riva al mare numerose autovetture. Per giorni volontari di protezione civile e corpo forestale spalarono il fango in soccorso della popolazione. Adesso un emendamento del deputato Santi Formica in Commissione Finanza consentirà al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di ricevere dalla regione siciliana la somma di 100.000 euro. La somma permetterà quindi all'ente di Palazzo Longano di avviare i primi interventi nell'area interessata e deturpata dallo straripamento del torrente Mela. Il finanziamento sarà tuttavia a disposizione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto soltanto dopo l'approvazione del bilancio regionale. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Materia che fin dalle ore successive alla drammatica alluvione aveva garantito il massimo impegno per far fronte ai danni.